Francesco Borgonovo, tu a più riprese ti hai espresso criticità sulla estensione del Green Pass. È lo strumento che è sbagliato o tu ritieni che non sia necessario uno strumento per incentivare chi ancora non lo ha fatto a iniziare il ciclo vaccinale? Io penso che sia sbagliato lo strumento perché non serve a quello che abbiamo sentito cioè il vaccino serve a proteggere le persone che se lo fanno fortunatamente in Italia le fasce più a rischio della popolazione sono quasi completamente vaccinate sappiamo che i giovani rischiano meno quindi non si capisce per quale motivo si debba limitare la libertà di circolazione delle persone le quali possono anche non aver fatto il vaccino per motivi che sono non ideologici se uno si prenota oggi, un giovane si prenota oggi in Lombardia la seconda dose la fa magari a novembre ora mi dite per quale motivo noi dobbiamo penalizzare ad esempio un ragazzino che non rischia la vita che rischia veramente molto poco di finire in ospedale o di infettare altre persone le quali possono essere contagiate anche dai vaccinati come dimostrano i dati dell'Inghilterra mi devono spiegare per quale motivo bisogna limitare la libertà delle persone tra l'altro bisogna limitarla per settori perché allora se io devo fare il Green Pass per prendere il treno e poi lo devo fare anche però per il treno regionale se sono un pendolare oppure no lo devo fare per andare a scuola ma non per andare a supermercato lo devo fare per entrare al cinema ma non per entrare in chiesa cioè allora o serve e serve per tutti dappertutto oppure non è che si può fare a categorie due questioni, borgonovole passiamo sempre la solita cosa, scusa concludo siamo sempre la solita strategia che ha cambiato semplicemente i fattori ma appunto il risultato non cambia che è quella che ci dicevano prima chiudiamo adesso per riaprire poi invece noi continuiamo a chiudere, a limitare a censurare, a impedire per continuare a farlo dopo però qui si dice che dovrebbe essere uno strumento per assicurare che nuove chiusure non ci saranno voglio farti due osservazioni rispetto a quanto dicevi esiste una libertà inviolabile a non vaccinarsi a fronte di un pezzo non irrilevante anche di popolazione non ancora vaccinata e poi per entrare nello specifico della proposta del Green Pass il fatto che voglia essere lo si stia immaginando di introdurlo per step per cui non sarà necessario il completamento del ciclo vaccinale almeno nella prima fase non sgombere il campo dalla esclusione a priori di chi ancora non si è vaccinato faccio un esempio perché se uno prenota il vaccino in Lombardia oggi il vaccino adesso salvo qualche posto disponibile nel breve termine la maggioranza dei posti degli appuntamenti vengono dati alla fine di agosto quindi vuol dire che uno per un intero mese deve o a sue spese che è un'altra cosa veramente ingiusta a sue spese farsi non so, tre tamponi la settimana e quindi stiamo parlando peraltro, ripeto, per lo più di persone di giovane età che quindi non vanno incontro a rischi particolari secondo, è un diritto mi pare costituzionale quello di non vaccinarsi mi pare che la vaccinazione stia proseguendo ci sono tante persone che si vaccinano se ci sono persone che non si vaccinano per ideologia bisogna comunque fare i conti con il fatto che è un loro diritto non farlo ci sono persone che non si vaccinano in virtù di tutte le scemenze che sono state dette e fatte in materia dal governo quindi mi pare ingiusto scaricare sulle persone la responsabilità e poi insomma qual è la questione cioè o una cosa serve siamo convinti il governo è convinto a tutti i costi che bisogna farlo per salvare mettessero l'obbligo vaccinale mettessero l'obbligo vaccinale il Green Pass vale dappertutto punto non tu sì tu no perché se i sindacati protestano perché se i confidustri protestano questa è una presa in giro una scelta politica però è una cosa che non ha alcun fondamento la tua posizione mi sembra siamo gli unici mi sembra chiara ho con me due persone